buona giornata amici da massimo foghetti oggi è giovedì 11 novembre 2021 iniziamo la giornata con la lettura dei giornali a partire dal resto del carlino e dal corriere adriatico vediamo prima però il santo del giorno e le condizioni del meteo oggi è san martino di tour non è san martino campanaro ma è san martino vescovo quello del mantello san martino è nato in pannonia e in ungheria nel 310 figlio di un ufficiale romano ha iniziato la sua carriera nei ranghi e nella guardia dell'imperatore ma ben presto ha indossato l'abito talare diventando vescovo di tour divise il suo mantello questo è un fatto storico un anedotico molto molto conosciuto divise il suo mantello con i poveri lo vediamo qui a cavallo con un mantello rosso che poi sarà diviso tagliato a metà e oggi poi dovrebbe essere anche l'estate di san martino in realtà il tempo non credo che dia ragione a questa credenza diamo un'occhiata quindi alle condizioni del meteo vediamo che la situazione è ancora incerta una giornata uggiosa come quella di ieri con cieli irregolarmente nuvolosi ma non dovrebbero piovere non ci sono piogge le temperature sono in calo e l'estate insomma l'estate ormai ce la dimentichiamo ed ora cominciamo con le prime pagine sui quotidiani a partire dal corriere adriatico e il titolo principale è sulla sanità contagi su a sintomi solo uno su sei scoperti 300 nuovi casi positivi gli infettati con il vaccino avevano ricevuto il ciclo completo oltre sei mesi fa e quindi dopo sei mesi le difese immunitarie cominciano a calare la regione aggiunge 24 posti di rianimazione e questo fa sì che al momento restiamo ancora in zona bianca però siamo insomma al limite e la zona gialla è molto vicina il ministro speranza a dicembre la terza dose per la fascia tra i 40 e i 60 anni quelli superiori ai 60 anni già da ora possono fare il vaccino vediamo i richiami a centro pagina respinto dalla mata ha dato fuoco a tre auto nella notte a colli al metauro e poi a valle foglia famiglia afghana arriva col bordolo grazie al consorzio a pesaro boom di assunzioni cala il precariato ma la formazione è carente invece la notizia a centro pagina con una bella foto e riguarda riguarda le attività balneari vedremo come questo argomento è trattato molto molto ampiamente all'interno dei giornali questa mattina perché rientrata all'attualità è balzata ancora la cronaca la direttiva bolkestein che rimette in a gara tutte le concessioni balneari una notizia pubblicata così richiamata anzi a fondo pagina si parla ancora dell'ospedale muraglia monta la fronda nella base del centro destra in merito alle decisioni dei tecnici dei tecnici della regione marche sulla pagina del carlino di pesaro vediamo il boom dei contagi allarme zona gialla con questa tendenza il rischio sarebbe già a dicembre di cambiare colore e la terza e dosi del vaccino vanno a rilento poi abbiamo un richiamo per quanto riguarda la tragedia del marittimo che è caduto in mare dopo l'autopsia si è accertato che la morte è avvenuta per annegamento a monte maggiore auto in fiamme era la vendetta di un ex e ancora il giudice ha dichiarato il non procedere nei confronti del sindaco ricci che aveva detto che baiocchi in consiglio comunale insomma un consiglio comunale una seduta molto animata che baiocchi era uno sciacallo ovviamente una parola che non dovrebbe dirsi ma che il giudice non ha considerato offensiva ma inserita nella normale dialettica politica per quanto riguarda invece lo sport vediamo calcio pesaro azzurra pienone per l'under 20 al benelli e sul basket la vl pace eco saluta napoli corre per geremy pargo e allora diamo un'occhiata subito all'interno del resto del carlino e vediamo come la sanità sale sempre alla ribalta ospedale dopo la scelta sul sito di muraglia ora si apre la partita delle aziende sanitarie la regione vorrebbe dividere l'asur in cinque asle vi ricordate le vecchie usle unità di sanitaria locale ebbene il modello potrebbe ripercorrere quello che si è quello che era in vigore tanti anni fa allora una cinque asle con responsabilità giuridica ma resta anche da decidere il futuro dell'azienda ospedaliera se questa potrebbe essere eliminata oppure addirittura ampliata includendo anche gli ospedali di urbino e di pergola una decisione che ancora l'amministrazione regionale deve assumere asle il ritorno al passato appare dietro l'angolo e non è detto che sia un male un articolo appunto che aggiunge ulteriori considerazioni ulteriori particolari a fondo pagina e intanto schizzano i contagi boom anche tra i piccoli di questo passo saremo gialli a dicembre al momento tiene il dato sulle ospedalizzazioni ma la terza dose va a rilento su 190 mila soggetti con i requisiti ha aderito nemmeno uno su tre quindi una una partecipazione molto scarsa e la regione cosa fa la regione corre ai ripari aumentando i posti letto scala insomma la percentuale per il limite da superare per poi cambiare colore sono stati attivati nei reparti di terapia intensiva di torrette di san benedetto del tronto così da riportare la soglia di occupazione al 9,4 per cento insomma siamo lì vicino al limite al 10 quando poi scatta il colore e appena dunque siamo sotto il limite ma acquaroli in tv fa una filippica sul green pass il presidente ritira fuori la storia che si contagiano anche i vaccinati al tampone da la vera certezza ha funzionato il vaccino ha detto non il green pass quando è stato introdotto il primo green pass nelle marche ha aggiunto non è che avessimo un numero bassissimo di vaccinati l'incremento percentuale tra il primo green pass di agosto è il secondo più recente su luoghi di lavoro e nell'ordine del 10 15 per cento quindi una percentuale non molto alta e siamo appunto alla pagina che riguarda le concessioni balneari concessioni stop alle proroghe dopo il 2023 i balneari reagiscono difendiamo gli investimenti pensate quando le concessioni balneari hanno investito nel qualificare le spiagge hanno fatto piscine hanno fatto box hanno fatto strutture sportive insomma hanno impiegato soldi e soldi ora gli ombrelloni quando scade la concessione si portano via così lettini così le sedi a sdraio ma le opere strutturali quelle murarie rimangono lì e quindi sono tutti investimenti persi e la decisione del consiglio di stato che ha un po posto un limite a questa a questo prolungamento a questo sempre rimandare l'applicazione della bolkestein ormai ha mandato veramente in bestia diciamo così i bagnini e abbiamo le dichiarazioni dei concessionari di spiaggia li vedremo anche sulle corriere adriatico qui abbiamo la foto di andrea giuliani non alberto che è il responsabile della osi confrattigianato di cui presidente mauro mandolini morto ha negato il tunisino imbarcato sull'orca lo ha stabilito ieri l'autopsia sulle 26enne nord africano caduto in mare per è caduto per un colpo ricevuto da un vericello spezzato il motopesca è ancora sotto sequestro l'accusa però non c'è un un indagato vero e proprio l'accusa è quella di omicidio colposo ma appunto non c'è nessun indagato si viene precisato a fondo pagina e veniamo alla situazione politica soprattutto del partito democratico letta il segretario nazionale vorrebbe una donna che unisca ma il pd martigiano resta diviso ieri c'è stato un incontro a roma con il segretario il sindaco ricci però era assente è stato un incontro nel tentativo di trovare un'intesa per il congresso per ora nessuno si tira indietro lunedì ci sarà un nuovo confronto ci saranno solo curti e mastro vincenzo intanto è slittata è stata prolungata per una settimana la raccolta di firme per le primarie aperte dalle 19 dicembre intanto il 18 dicembre si voterà per eleggere il consiglio provinciale a votare come loto non saranno i cittadini ma tutti i sindaci dei consiglieri dei comuni del territorio provinciale saranno circa 600 gli elettori ma il numero definitivo sarà formalizzato sulla base delle attestazioni dei comuni stessi che esprimeranno una sola preferenza e questo fa parte della riforma delle province una riforma che ha mostrato un po tutti i suoi limiti attuata a qualche anno fa baiocchi sei uno sciacallo nessun processo per ricci il caso esploso in consiglio comunale era finito al centro di una querela il gip ha accolto la richiesta di proscioglimento della procura il consigliere regionale diritto di critica mi auguro che valga per tutti e comunque la gravità di quelle parole resta ha reagito così nicola baiocchi che è consigliere di fratelli d'italia una denuncia sul caso della nuova questura mauro mosconi all'attacco dopo la svolta mi rivolgerò anche la corte dei conti per danno erariale ha dichiarato e anna renzoni replica invece di chiedere umilmente scusa il sindaco gioca di lettura allo scarica barile caos all'ordine farmacisti non c'erano alternative il resto del carlino torna oggi su questa vicenda del direttivo dell'ordine che si è dimesso in blocco per non aver concordato su un provvedimento preso nei confronti di un farmacista ebbene il presidente il presidente era di una di una tesi mentre buona parte del consiglio era di un'altra tesi non trovandosi l'accordo si è raggiunta la decisione di dimettersi la goccia finale un provvedimento disciplinare al centro del contendere ma già c'erano però molte crepe pregresse mare magnum sbarca in piazza passatelli di pesce sfida tra cuochi sabato e domenica la manifestazione dedicata a sapori del mare degustazioni e tanto altro per un fine settimana così senza problemi almeno dal punto di vista enogastronomico e poi un ritorno del resto del carlino sulla vicenda della ragazza che amava una sua compagna botte perché lesbica il silenzio dei genitori padre e madre della ventenne picchiata allontanano i cronisti dopo la bufera la procura ipotizza il reato di maltrattamenti la verità è che siamo in balia di discriminazioni di ogni tipo aggiunge l'arci gay e poi ancora un articolo se non simile insomma che ha a che fare sempre con la violenza sulle donne mi ha violentata quando ero una ragazzina lo denuncia dopo otto anni e va a processo a giudizio sarà un pesarese di 53 anni amico di famiglia della presunta vittima quest'ultima una ragazza pesarese di 23 anni si è costituita parte civile con lei anche i genitori come parti danneggiate dal reato una una vicenda particolarmente squallida carte di credito decine di truffati in provincia a pesaro sono almeno una cinquantina le denunce arrivate in questura oltre 100 oltre 10.000 in tutta italia si tratta dell'ultima truffa online che riguarda i titolari di una carta di credito collegata a google play secondo quanto riferito alle forze dell'ordine le vittime hanno scoperto di piccoli ammanchi corrispondenti a prelievi che sostengono di non aver mai fatto piccoli ammanchi che qualche volta sfuggono anche ai controlli dei conti piccole somme che non provocano allarme ma visto il numero dei prelievi rischiano poi di svuotare i conti insomma una piccola somma oggi una piccola somma domani e poi il conto alla fine finisce giriamo ancora padre madre e sei figli in fuga un tetto per i profughi afghani a col bordolo ebbene una vicenda di una famiglia guardate qui quanti sono i componenti di questa famiglia che è stata aiutata dal consorzio di bonifica che ha messo a disposizione un suo stabile a muraglioni di col bordolo il presidente claudio netti dice hanno rischiato la vita per l'italia non possiamo abbandonarli è un fatto di solidarietà veramente incognabile affano dopo pesaro si parla di natale però insomma si procede un pochino lentamente low cost questo è il titolo in inglese è usato dal resto del carlino e c'è affano insomma ieri c'è stato un incontro tra i commercianti e l'assessore al commercio etienne lucarelli si sono così dette sono concordate le prime iniziative domani ci dovrebbe essere una conferenza stampa per illustrare quanto verrà programmato il covid comunque ha rallentato i preparativi e ridotto le finanze l'architetto seri che è stato incaricato dal comune di insomma programmare un po' queste iniziative dice avevo grandi idee ma il budget ha limitato le possibilità e c'è anche una dichiarazione di barbara marcolini presidente della commercio di fano il commercio freme non si sa mai nulla ieri un incontro tra l'amministrazione e le associazioni di categoria ma questo non è il modo giusto di fare dice la rappresentante dei commercianti ditta in liquidazione degustazione ai saluti chiudono gli esercizi commerciali di fano center il complesso dei ristoranti ma non tutti il complesso dei ristoranti che dava lavoro a 30 dipendenti ristorità gli dice cercheremo di ricolicarli di ricolocarli qualcuno è stato già assunto e concludiamo le notizie fanesi con questa evidenza palace gimarra sanità ecco il fanesi pensiero il vice sindaco dichiara tutto campo la variante si farà la vogliono i cittadini l'ospedale ebbene marche nord e scende bolita ok alle primarie per il sindaco una intervista fatta da anna marchetti sul corriere adriatico abbiamo già visto la prima pagina dove campeggia la foto al grande foto notizia per i problemi delle concessioni balneari e scontro sulla sabbia concessioni balneari il rinnovo era al 2000 e 33 ma è stato invece anticipato al 2023 di dieci anni un tavolo tecnico in regione ci muoveremo anche a roma è la reazione dell'assessore castelli confermati timori l'iniziativa speciale la prossima settimana il capogruppo di fratelli d'italia ciccioli problema serio al lavoro con la meloni per rimediare insomma si cercano di attivare anche i referenti nazionali muraglia aria di rivolta nella destra pietra tombale sull'ospedale unico la lega convoca per domani una riunione forti perplessità per il parametro urbanistico ambientale insomma il centro destra aveva optato per l'ospedale di case bruciate invece la decisione dei tecnici regionali ha un po spiazzato questa questa prospettiva ed ora che cosa succede succede che si cerca di ricorrere ai ripari ma non si sa se si può poi se sarà possibile ribaltare ancora una volta questa decisione una guardia medica per il distretto triage telefonico soluzione tampone novembre è salvato dei medici volontari e dicembre ebbene dicembre un'incognita appello di ucchielli riaprire montecchio dovrà essere attivata una centrale telefonica unica a pesaro per il servizio di guardia medica che dovrà filtrare tramite il medico un operatore competente le chiamate in arrivo ma solo nel caso in cui alla postazione di continuità di pesaro città l'unica rimasta attiva dopo l'accorpamento di montecchio e gabice sia presente un solo medico che potrebbe anche assentarsi per una visita urgente a domicilio insomma si cerca di rimediare di porre una pezza che però è troppo stretta per il buco che si è aperto proposte sessuali del padre dell'amica ha chiesto risarcimento da 250 mila euro e la vicenda della ragazza di 23 anni che da otto anni prima aveva subito un una violenza sessuale da un 53enne giriamo ancora le pagine del corriere adriatico siamo a valle foglia la famiglia afghana salvata dal consorzio con sei figli la rinascita a muraglioni e a urbino la confesercenti stretta movida chiudere tutti i giorni alle due una lettera di borgiani al sindaco sicurezza privata alimentari e laboratori artigiani aperti e cecchini della conf commercio dice un confronto avviato chiediamo più controlli e aree fuori del centro e nel corso dell'incontro dei capigruppo consigliari assieme al sindaco gambini sarebbe stato deciso di continuare il confronto per elaborare un atto da portare all'approvazione del consiglio comunale sulla pagina di fano anche qui vediamo l'apertura dedicata al natale ristagna il commercio in centro occorrono idee per un rilancio con commercio e confesercenti in pressing sul comune per gli eventi di natale non sono affermano le associazioni di categoria i 300 mila euro spalmati tra 900 negozi tra coloro che in maniera determinante hanno subito un calo di fatturato per le norme anti covid che possono rilanciare il commercio fanese occorrono altre iniziative occorre un'immagine diversa della città occorrono eventi che possono far lavorare anche gli alberghi in inverno cioè eventi serali che possono far sì che poi la gente venuta da fuori possa dormire in albergo no all'alleanza del governo draghi mai con la lega ma apriamo al movimento 5 stelle è enrico nicolelli il consigliere provinciale e comunale enrico nicolelli che respinge l'idea di renato minardi la linea del pd non la dà lui afferma in maniera piuttosto determinata non la dà lui bensì il segretario al congresso e il segretario quello che si deve leggere al congresso prossimo alleanze larghe ma non troppo lo schieramento che sostiene il governo draghi non convince enrico nicolelli in proiezione fanese men che meno la sua brutta copia realizzata a fossombrone consigliere comunale del pd e componente dell'area futuro democratico l'attuale minoranza del partito locale nicolelli entra nel clima del congresso che si svolgerà dal 25 novembre al 12 dicembre prossimo e poi vediamo sulla valmetauro le tre auto a fuoco per il raid di un convivente respinto è una notizia che proviene da colli al metauro si tratta di un 57enne di arezzo visto mentre ci riprovava è stata notato da un testimone il quale ha riferito tutto ai carabinieri e quindi questo ha permesso di incastrare l'autore di questo incendio sulla valcesano una legge per il cavallo del catria l'unica razza autoctona regionale la propone all'assemblea delle marche il consigliere rossi il centro a cantiano ebbene dopo questa notizia guardiamo lo sport vediamo che oggi non si parla non si parla di vis ma si parla di under 20 è il giorno dell'under 20 al benelli prato gremita bruciati quasi mille biglietti gratuiti azzurrini in campo alle 14 e 40 arriva la repubblica cieca e l'italia punta a mantenere l'imbattibilità è il torneo delle otto nazioni pesaro e tra le sedi ospitanti con la squadra di alberto bollini e l'ex visse stramaccioni per quanto riguarda invece il fano calcio vediamo che ancora non c'è alcuna novità per il nuovo allenatore sappiamo che temporaneamente la squadra è affidata al vice alma niente fumata bianca due ipotesi per il mister la società granata avvicinano la scelta ma senza fretta panchina in mano al vice fiscaletti mercato forse in arrivo un nuovo difensore straniero e poi ancora vediamo che sono stati squalificati per una giornata tortori e antezza che salteranno il prossimo match col tolentino per quanto riguarda la vl e il basket napoli per geremy pargo lotta contro il tempo oggi la vl saprà se l'asso dell'ex nba appena ingaggiato dalla gevi sarà in campo nell'anticipo paceco in prestito in polonia è ufficiale il presidente partenopeo ha detto l'ingaggio del nuovo play il giocatore importante è un segnale di solidità da parte del nostro club sul corriere adriatico le pagine sportive riguardano la vis che ha fiducia anche nel prossimo incontro dopo aver perso quello con la reggiana giraudo uno dei pochi confermati dell'anno scorso è uno dei più presenti in campo ci sono delle differenze con la passata stagione anche il rapporto con il mister questa vista fiducia non ci fermiamo qui fanno ancora nessuna decisione sul nuovo allenatore crescono le possibilità che tocchi a fiscaletti sedere domenica in panchina e questa era l'ultima notizia massimo foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani alle ore 7 per altre notizie questa sera alle ore 20 e 30 su fano tv grazie per l'ascolto buona giornata grazie a tutti grazie a tutti